Grazie a tutti Fishing Gang Atunca Tkaretttaaaa Vai ta vai ta vai ta Mostra moigure Mostra moigure My god Dekaa Dekai Dekai Noooo Sì, vabbè. Sì, vabbè. Ok, vabbè? Sì. Come fare? Galera! Nossa Senora! 12 minuti di briga, sto vedendo da qui, 12 minuti di briga. Sì, vabbè! Vamo soltar o bichão. No meio da cidade, um bicho desse tamanho aqui, cara... Inacreditável, inacreditável.... Arigato. Galera, vamo soltar ele. 30 kg, galera, olha isso, cara. Dava acreditando um negócio desse? Grazie! Alla prossima! LINE 巻き替えてて良かったね 朝のラインでやってたら 疲れた 良かった良かった めっちゃ強かったね サメ強いけどもっともっともっと 同じ大きさだったら 比べ物にならないから いやでもすごかった ナイス サメ? すみません いいよ 様々な その後 良かった SAME 強いけどもっともっともっともっと 同じ大きさだったら 比べ物にならないから いやでも凄かった サメ? 何すか いやいやいや 逆にガイドされてるみたいな Non si è rimbio? C'è un'epoca che faiuto. E' un'epoca! C'è un'email? E' un'email che ha fatto il primo e il primo. Questo è un'email. Io ho la ilesco. Ma fornita? O per me? Ok, ok. Grazie a tutti. 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 Yeah. Yeah. Grazie a tutti. 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 Wow. Wow. Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti.